Inizia dalla 1R la campagna vaccinale di fronte alle principali industrie della provincia di Arezzo. Sì, iniziamo dalla 1R ma non solo perché inizia contemporaneamente su tre grandi industrie nelle tre province. Quindi avremo la GSK su Siena e la Nuova Solmine su Grosseto. Quindi iniziamo con questo, poi seguiranno nei prossimi giorni altre industrie che hanno aderito a questa iniziativa su tutto il territorio aziendale. Nella provincia di Arezzo abbiamo domani Prada, poi seguirà Baraclitti in Casentino e infine Lamenci in Valdichiana, Retina. C'è da convincere ancora l'ultimo zoccolo duro di italiani che da un certo punto di vista, un po' per paura, un po' per convinzioni loro personali, di questo vaccino non ne vogliono sapere. Esattamente, il meccanismo è proprio questo. Io devo dire però che l'idea del Green Pass ha dato un nuovo, ulteriore impulso a una campagna che comunque andava abbastanza bene. Almeno qui in sud-est abbiamo avuto buoni risultati. In questo momento stiamo cercando di prendere appunto gli ultimi indecisi e il camper è un'iniziativa importantissima proprio per questo. Perché il medico a disposizione dà l'opportunità e la possibilità a quelli che hanno ancora dei dubbi, a quelli che hanno bisogno di essere, come dire, accompagnati con un po' più di attenzione, questo è il momento opportuno. Quindi noi chiediamo di, quantomeno, di avvicinarsi al camper per avere delle informazioni. Poi se arriva il vaccino anche meglio. Buongiorno, siamo molto orgogliosi che questa campagna vaccinale parta da qui perché la nostra azienda sarà sicuramente un ottimo inizio per far sì che i lavoratori, quelli che ancora indugiano sul vaccino, possano ripensarci e provare questa grande libertà che tutti noi abbiamo abbracciato. Un'erreo insieme a tante altre è stata tra le aziende sospese e quindi il 2020 è stato un anno abbastanza terribile. Quello che tutti gli imprenditori italiani, l'economia italiana sta facendo vedere invece ci dà grande orgoglio. Noi per primi, ma tutto il nostro tessuto imprenditoriale sta portando avanti una ripresa vigorosa che fa sperare per il futuro obiettivamente.